Otto esemplari di tonno rosso per un peso complessivo di circa tre quintali e mezzo. Erano nascosti all'interno di una stiva a bordo di un pescareccio della marineria di Monopoli. Il personale militare specializzato dal sesto centro di controllo aria pesca di Bari ha ispezionato il mezzo trovando gli esemplari nascosti. Il tonno rosso era detenuto in violazione delle vigenti norme che prevedono un contingentamento della cattura trattandosi di una specie rara e pregiata soggetta a rigorosa protezione comunitaria e internazionale. A carico del comandante dell'armatore del pescareccio è stata elevata una sanzione amministrativa di 8.000 euro a cui seguirà la misura accessoria della sospensione della licenza di pesca per un periodo compreso fra i 3 e i 6 mesi. Il tonno rosso sequestrato a seguito dell'intervento dei veterinari della locale ASL è stato giudicato idoneo al consumo umano ed è voluto in beneficenza denti caritatevoli di Monopoli.